Siamo arrivati a Sardegna, dove lavoreremo a prete un nuovo impianto, lavoreremo ufficialmente, se è già operato, e quindi è nata una operativa, perché un grande grano in un'esercito all'inizio, perché loro la sardegna la comprono nei continenti, quindi costa un sacco di soldi. Mi vanno a riuscire a riuscire a riuscire a fare in realtà, per cui ti rifà la nostra scuola dell'esterno e per la nata di Sardegna, e quindi con le università, con l'esterno di ricerca, quindi su una parte e le saseri sono molti, i ricercatori, e quindi troviamo nella cera di ricercatori di palestri, e quindi troviamo anche un'opera da nostri unico, Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.